Ciao a tutti, benvenuti su Uncome. Nel video di oggi ti insegneremo un passo fondamentale della danza del ventre. Questo è un movimento molto semplice e necessario per i passi futuri, che si sviluppa sul piano orizzontale. Dobbiamo collocare i piedi parallelamente, con un'apertura delle dimensioni dei fianchi. Portare il peso sotto il petto da un lato all'altro, cioè muovere i fianchi da un lato all'altro. Sembra un passo molto semplice, e lo è, ma dobbiamo prendere in considerazione diversi fattori. Cercheremo di mantenere alto il nostro ombelico e che sia solo l'anca che si muove da una parte all'altra, premendo i nostri obliqui ogni volta che arriviamo a un estremo. Questo ci aiuterà a ottenere flessibilità nei nostri fianchi. È molto importante mantenere l'ombelico alto e il nostro bacino leggermente indentro, per evitare di sollevare la parte posteriore e riportare il peso indietro, perché potrebbe causare lesioni. Come puoi vedere, è molto semplice se seguiamo tutti i passaggi, da una parte all'altra. Se alzi un po' il petto, noterai che è molto più semplice fare il movimento. Quando il passo sarà controllato, potrai iniziare a muovere le braccia, sollevarle e fare movimenti diversi, come ad esempio due ripetizioni per lato o andare più veloce senza che si muova il petto. Questo è tutto per oggi. Se ti è piaciuto il video, non dimenticare di iscriverti al nostro canale per vedere tutti i video di Danza Orientale.